Dalla pittura alla scultura fino alla ceramica, oltre 100 artisti dall'Italia e dal mondo per la collettiva Levite, Giorgio Vasari, ospitata a Foiano della Chiana, nell'Aretino, per celebrare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. L'evento, inaugurato nell'ambito dell'apertura della settimana foianese, è organizzato dall'Associazione Culturale Arteco, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Foiano della Chiana e della Proloco. Quest'anno siamo riusciti anche a restaurare un affresco che è stato attribuito proprio alla scuola del Vasari. Tre le diverse sedie espositive, la Galleria Comunale Furio del Furia, la Carbonaia e il Museo della Fraternita di Santa Maria. Domenica 29 settembre, alle 19, il Finissage, che si terrà a Pozzo della Chiana, nel Tempio di Santo Stefano alla Vittoria, l'edificio è retto proprio su progetto di Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati, il ricordo della battaglia di Scannagallo del 2 agosto 1554. Il Finissage abbiamo deciso di farlo proprio nel Tempietto di Pozzo della Chiana, in modo che la mattina gli artisti verranno a ritirare le loro opere dove sono predisposte, e la sera alle 5 faremo il Finissage proprio nel Tempietto di Giorgio Vasari e il Minioo. Verranno poi scambiate delle opere con il Comune e invitiamo i cittadini anche a partecipare a questa manifestazione interessante.